È stato un film molto importante per me perché la storia affonda le sue radici nella mia infanzia, nei miei ricordi più lontani e quindi decidere di metterla in scena è stato un grande atto di follia in qualche modo è stato un po' confrontarsi con il mio passato, con i miei fantasmi però è stato poi terapeutico e mi ha dato la possibilità di sentirmi più leggero e sollevato l'esperienza è stata molto intensa, molto dura però alla fine volevo che una storia mia diventasse anche di altri e sono contento che il corto stia raccogliendo tutti questi consensi e tutto questo successo